Ma che fate? Queste sono le mie cose! Ma chi vi ha detto riprenderla? Chi vi ha detto riprenderla? Chi ve l'ha detto eh? Oh! Questa è la mia batteria! Ma come ti permetti? Ma chi te l'ha detto? Alice che cazzo fai? Tu sarò io! Andate a lavorare! Alice metterla a sedere! Non lo capisci? Non lo capisci proprio eh? Se ne muvenne tutto Alice! Tutto se ne muvenne! Quella è la roba mia! Tutto! Roba tu e roba mia! Io già ho venduto tutto! Tu lo sai chi me l'hai regalata quella batteria? Chi te l'ha regalata? Tu lo sai! Tu lo sai chi me l'hai regalata! Lo strozzo di tuo padre te l'ha regalata! E grazie a lui se stiamo messa la merda! Se stiamo qui debili fino al collo! Non te nevi la metà! Io me ne vado! Io me ne vado! Io me ne vado! Non ce la faccio più! Alice dove vai? Me ne vado da Silvia! Che cazzo è Silvia? Chi cazzo è Silvia? Io sono la famiglia tua! Io sono tuo fratello! Tu devi star con me! Non con Silvia! Hai capito? Tutti quelli che con questa crisi hanno toccato il fondo Raga ripartite dall'amore! Ma se non c'è una lira per pagarmi l'affitto mica vado a suonare la batteria! Io vado a lavorare! Ma stai giusto! Che ti serve questo? Prezzi! Può almeno questo ridammelo! No scusi! E' molto che suoni? Che suonavo! Un gruppo! Beh è un gruppo! Facciamo punk! Ah punk! Allora sei brava! Vabbè brava! Non è che ci vuole tanto! Il punk è tutto uguale! Tutto in due quarti! Due quarti! Due quarti! Due quarti! Tutto così! Emilio! Forza! Andava l'ora! Comunque è piacere! Emi! Emi! Emi c'è! Guardi te l'ho portata a mangiare! Oh! Grazie! Emi non è quella crema! Pura la crema ce lo volevi! Sai che te guardi scusa! Non c'è da lavorare!